Il più grande spettacolo è la ricerca. Consiglio regionale del Piemonte e Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, insieme per una serata benefica, in programma il prossimo 6 dicembre alla Casa del Teatro Ragazzi di Torino, il cui ricavato sarà finalizzato alle attività di ricerca e cura oncologica dell'Istituto di Candiolo. Tanti gli artisti del mondo della musica, del teatro, della magia e della tv che hanno deciso di sostenere la serata, che sarà presentata da Cristina Chiabotto, madrina della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e da Walter Rolfo, presidente e CEO di Masters of Magic. Invitiamo tutti i piemontesi a partecipare a questo bellissimo evento di solidarietà con il Consiglio regionale e con la Fondazione Candiolo, un centro di ricerca d'avanguardia ed eccellenza in Italia e nel mondo per la ricerca contro il cancro. Parliamo di prevenzione, parliamo di cure, cerchiamo di sostenere anche chi ha bisogno, i malati, di tumore in tutte le sue fasi. Tra i tanti volti noti che si alterneranno sul palco per sostenere l'Istituto di Candiolo ci saranno Luca Barbarossa, il duo comico e senso doppio con Watts, Elisa Mutto del Circo Vertigo, Oscar Gio Marinaro dell'Istatuto, le giovani cantautrici torinesi Canta Fino a Dieci, Anna Castiglia, cantante, reduce dal talent X Factor, il Sunshine Gospel e la Miss Italia piemontese Francesca Bergesio. Per avere con noi un'istituzione come il Consiglio regionale del Piemonte diventa un'occasione importante, l'Istituto di Candiolo si prepara a mettere a disposizione nuovi spazi per i ricercatori, circa 3.000 metri quadri. Entro l'inizio del 2024 arriverà una seconda tomoterapi per elencare alcune delle iniziative che noi possiamo fare grazie alla generosità e dunque grazie anche al più grande spettacolo e la ricerca che è in programma il 6 dicembre alla Casa del Teatro dei Ragazzi. La serata offrirà anche l'opportunità di acquistare a scopo benefico e degustare alcuni prodotti dell'eccellenza piemontese messi a disposizione dagli sponsor che hanno aderito alla raccolta fondi. Per assistere alla serata sarà necessario prenotare all'indirizzo mail partecipa.eventi-cr.piemonte.it. La donazione minima è di 15 euro. Grazie a tutti.